lanciamo la app prima installazione viene spiegato le funzionalità disponibili confermo la presa di zona prima cosa a fare identificare le aree geografiche che possono essere di interesse o meno semplicemente attivando o disattivando i pulsanti a questo anche le tematiche per esempio potrei essere interessato o non interessato alle notizie agli eventi e così via dicendo premendo su avanti presto il consenso procedo mi chiede il codice fiscale tramite questa funzionalità si identifica se questo codice fiscale è il nostro cliente o meno viene inviata una mail e o un sms all'indirizzo mail associato il codice 5 3 5 9 7 2 siamo attivi il codice fiscale è il nostro cliente il codice fiscale è il nostro cliente